siamo in pista con serena che ha questo sorriso smagliante che proprio vedi che sprizza felicità tutti i pori allora serena cosa fa annoiare una donna in una relazione tu hai una relazione praticamente lunghissima bellissima perché se dura così tanto significa che vai appena di essere vissuta e ci mettete massimo di impegno quindi faccio i miei complimenti per questo e adesso parliamo del nostro topic cosa fa annoiare una donna in una relazione vai la monotonia prima cosa un rapporto deve essere vivo costantemente ma non perché tutti i giorni devi essere al cento assolutamente una cosa che non c'è non è non è normale non è reale ma le piccolezze le piccolezze sono fondamentali nel rapporto soprattutto magari chiedere com'è andata la giornata soprattutto magari se per una donna la donna ha avuto una giornata pesante ecco magari tu omo dovresti chiedere come è andata la giornata io donna devo chiederti come è andata la giornata la cosa fondamentale soprattutto ti parlo di una giornata tipo di una settimana tipo per esempio durante la settimana lavoriamo da lunedì al venerdì magari il weekend prendiamoci quel momento per noi facciamo una passeggiata andiamo da qualche posto magari nuovo dove possiamo scoprire e magari avere quel momento per noi avere quel momento per la coppia che quel momento che poi è solo nostro nostro ecco c'è esatto è quella la cosa fondamentale e magari puoi ricordare a ti ricordi quando siamo andati lì ecco una cosa essenziale sono anche i ricordi che fanno sentire vivi il rapporto la monotonia è qualcosa di pesante esatto voglio fare degli esempi di cose che appunto fanno noi a una donna per monotonia cosa intendiamo ne specifico ad esempio fare sempre stesse cose fare sempre l'amore in un determinato modo sempre al solito posto può essere un momento può essere anche questo perché magari in quel momento si ha voglia di fare anche altro cioè io penso che se una persona è un conto che tu magari fai sempre le stesse cose perché sono cose oggettive cioè per dirti mandare il buongiorno la mattina cioè nel senso la buonanotte la sera però se uno non sperimenta ecco sperimentare nella coppia è fondamentale magari a me piace una cosa a te te ne piace un'altra però insieme possiamo possiamo creare qualcosa che magari in quel momento ci crea un attimino di pepe ecco magari anche non so fare l'amore in maniera diversa perché no sperimentare qualcosa di nuovo è fondamentale secondo me in una coppia soprattutto magari in un rapporto lungo lungo è fondamentale adesso ti faccio una domanda 10 anni di relazione sono tantissimi oggigiorno nessuno arriva a questa durata nel 1800 esatto cioè ci sono stati dei momenti durante tutti questi giorni questi mesi questi anni in cui è subentrata un po diciamo la monotonia e la noia e avete fatto qualcosa per riportare il rapporto in alto allora guarda il è successo quest'anno con il lockdown cioè nel senso che noi non ci siamo visti per sei mesi quindi è stato un po pesante nel senso che comunque non vedersi per sei mesi obiettivamente dopo che ti dicevi quelle cose cioè cosa ti dovevi dire dopo che tre mesi sei stato chiuso in casa cioè nel senso non è che non quindi stare insieme ad agosto che magari abbiamo passato comunque tre settimane insieme abbiamo cercato di fare quello più che si poteva fare e da lì che ti rendi conto che magari anche le piccolezze sono fondamentali il fatto di andare a cena fuori il fatto di andare non so in un posto diverso il periodo del lockdown è stato pesante cioè un pezzo per tutti però il fatto di non avere magari anche la tua persona vicino è ancora di più e questo ha portato un po di monotonia un po fare sempre a chiedere a dire e a chiederti sempre le stesse cose ed è stato un po pesante sicuramente anche magari in altri momenti della nostra vita del nostro rapporto però questi mesi sono stati proprio dura prova sì sì perché sei mesi sono tanti cioè sei mesi sono tanti e calcola che noi a febbraio ci siamo visti ma per tipo quattro giorni cioè cinque giorni nel senso non è che dici ok ti sei visto per un mese quindi è stato pesante dopo che hai detto buongiorno che fai che non fai oggi che hai fatto che devi fa cioè sei sempre a casa non è che fai tanto esatto quindi ripeto un consiglio che do è soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto tutti quanti prendere ed estrapolare ogni cosa che c'è di bello nell'amore nel nel rapporto di coppia ecco e soprattutto ogni momento è fondamentale e sacro secondo me ma di positivo che di negativo è nel senso perché ti fa crescere in quel momento in qualsiasi anche nella coppia il consiglio che do e non monotonia cioè ci può stare il giorno che uno si scoccia di fare qualcosa per l'amore di dio però si diventa lunedì martedì mercoledì giovedì tutta la settimana cioè anche no e possiamo che dire che per far durare tanto un rapporto bisogna anche appunto saper superare questi momenti difficoltà assolutamente insieme parlare soprattutto perché noi donne siamo più ok cioè diamoci una mossa diamoci una mossa che cosa sta succedendo magari l'uomo più si si sai resta lì ok vediamo aspettiamo cercare di parlare e di comprendere quello che sta accadendo soprattutto perché non è non è comunque semplice soprattutto dopo tanti anni non è non è semplice perfetto beh direi questa ragazza piena zeppa di contenuti non neanche parlato fossero tutte così allora ragazzi prende abbiamo fatto un video corso su come non come durare per dieci anni esatto sulla relazione abbiamo molte persone che sono ghiotte di contenuti sulle relazioni quindi anche questo abbiamo portato da christian serena alla prossima ciao